Foggia TV Per noi di Divella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Divella, passione mediterranea nel mondo. Vi auguro buon ascolto e buona visione del nostro telegiornale. Grazie per la scelta che avete fatto. Titoli di apertura. Gara di solidarietà per la giovane Michela, lotta nell'ospedale Casa Soldiero della Sofferenza a San Giovanni Rotondo dopo l'incidente stradale, straordinaria donazione di sangue. Strade insicure, incapacità nella spesa pubblica, lavori finanziati ma non eseguiti dopo gli ultimi incidenti, ennesima denuncia di equità territoriale. Gelsomino, Confcommercio, illegittimo, l'ex presidente Matteo Biancofiore contesta la nomina, non sarebbero state rispettate le norme statutarie. Volpe, ultima mandata alla porta del Foggia, alla corte di Zeman, un altro portiere, 25 anni, l'anno scorso con la maglia della Cremonese. Zeman, l'instancabile maestro di calcio, entusiasmante il suo ritorno a Foggia, pronto per l'ennesima rivincita. In tema di solidarietà, il cuore di Foggia e dei Foggiani batte sempre forte, soprattutto quando si tratta di aiutare una ragazza giovanissima che lotta nell'ospedale di San Giovanni Rotondo dopo un incidente stradale. Da un lato il dramma del terribile incidente in cui ha perso la vita il 21enne Domenico Longo, dall'altra l'ennesima prova del grande cuore dei Foggiani che hanno subito risposto alla chiamata di richiesta di sangue per Michela, uno dei tre passeggeri dell'auto finita contro un muretto, nei pressi di un distributore di benzina sulla Manfredonia Foggia. L'appello dei familiari sui social ha messo subito in moto la macchina solidale che ha permesso di rendere disponibile il giusto apporto di sangue per la ragazza ricoverata in ospedale. A San Giovanni Rotondo l'unica nota positiva è un giorno funesto per la morte di Domenico il cui trasporto in ospedale non è servito però a salvargli la vita. Un dolore che ha sconvolto la famiglia del ragazzo avvolta dall'affetto dei tanti amici di Domenico che restano increduli per l'accaduto. Una strada, quella che collega Foggia a Manfredonia, ancora di più quella per Sansevero, sempre pericolosa e che ha bisogno di interventi per renderla più sicura. Proprio in questi giorni la Polizia ha cercato di fare prevenzione con posti di blocco affinché questi episodi non si verificassero. Il bilancio degli incidenti stradali nel mese di agosto è pesante. Tantissime le tragedie sulle strade, strade che aspettano da anni lavori di adeguamento e di conseguenza maggior sicurezza. Una delle principali battaglie del territorio è proprio la sicurezza stradale. Ci sono tantissimi progetti presentati. La rabbia è che ci sono i soldi, cioè i fondi che sono stati stanziati dallo Stato, sono lì e non riusciamo a spenderli. La classe politica, dirigente, non riesce ad aprire il cantiere sulle strade per garantire sicurezza agli automobilisti. Quanti anni abbiamo aspettato per vedere il raddoppio da Cerignola a Foggia e quanti anni dobbiamo ancora aspettare per vedere il raddoppio fino a Sansevero o adeguare meglio la strada garganica che porta a Manfredonia. Insomma, sono tanti i progetti. La rabbia, ripeto, è che i soldi ci sono. Ma perché non si riesce ad aprire il cantiere dei lavori? Proprio per il tratto della strada statale 89 alla porta di Manfredonia, dove c'è stato l'ultimo incidente mortale, ci sono circa 69 milioni di euro sono lì stanziati per fare i lavori su quella strada e sono fermi e non si capisce il perché. Noi questa mattina abbiamo parlato con un esperto, con un esponente anche della politica, adesso il referente del Movimento 24 Agosto Equità Territoriale, movimento che è nato proprio esattamente due anni fa. il 24 agosto, Pasquale Catanio è attento e conoscitore della materia, aveva segnalato la disponibilità dei fondi già da due anni e questi fondi sono ancora lì congelati e non si capisce il perché. Sicuramente con la realizzazione degli investimenti che come bene noi, come il Movimento 24 Agosto Equità Territoriale, abbiamo sollecitato più e più volte sia il Presidente della provincia che gli altri enti di programmazione e noi lo faremo ulteriormente con il Signor Prefetto e i due commissari sia di Foggia che di Manfredonia, perché riteniamo questa una questione ormai ineludibile, ancora morti purtroppo giovani sulle strade, ma ancora di più investimenti non effettuati e proprio in quel tratto è previsto proprio l'inalzamento del livello di sicurezza con la realizzazione di sparti traffico centrale, doppia corsia, doppia carreggiata, guardrail. Quindi è evidente che i 70 milioni circa disponibili non spesi del Fondo di Coesione e Sviluppo 2014-2020 non si può andare più avanti così, bisogna che ci si muova tutti assieme, non attribuendo responsabilità ma aprendo i cantieri anche perché questo è utile per dare risposta occupazionale. Ma il diritto del cittadino poi si perde nella burocrazia nei tempi lunghissimi della politica? La politica piuttosto che guardare i propri compensi dovrebbe guardare a questi problemi, fare in modo che si accelerino i tempi, si vada contro la burocrazia e con i decreti di semplificazione probabilmente si arriverà a qualche risultato ma ci vuole la volontà, ci vuole l'essenza nel mettere al centro i problemi che hanno i cittadini e il territorio e uno di questi, quella della mobilità soprattutto sulle strade e badibeni che l'ultima scelta contraddittoria è quella di spostare quote di trasporto di merce e persone dalla strada ferrata sulla strada stradale, quella con l'asfalto. E' evidente che questo è in antitesi con la transizione ecologica e con la sicurezza della mobilità. Quei 69 milioni di euro erano stati programmate e stanziate nel ciclo di programmazione 2014-2020 siamo al 2021 e ancora non siamo riusciti a spendere neanche un centesimo e la cosa è abbastanza grave. Dunque le responsabilità spalmate al vertice dei governanti qui a Foggia abbiamo il Comune commissariato per mafia ma i rappresentanti della politica dovrebbero fare la propria parte e invece è da un bel pezzo, da qualche mese che siamo nell'assoluto silenzio. C'è la grande occasione del recovery plan cioè la grande torta dei finanziamenti e buona parte dei fondi del recovery è stata destinata al sud di conseguenza anche alla provincia di Foggia. Il presidente della provincia dell'amministrazione provinciale Nicola Gatta ha convocato la cabina di regia per fare il punto della situazione dopo i progetti presentati ma siamo ancora ai primi passi e dunque è importante l'attenzione della classe politica su questa grande occasione per il territorio di Capitanata. Al vertice delle associazioni del territorio registriamo un durissimo scontro per la nomina del presidente di Confcommercio Gelsomino è regolare e rispettosa delle norme statutarie la nomina di Gelsomino al vertice di Confcommercio l'ex presidente Matteo Biancofiore dice di no e ha denunciato tutto agli organi di competenza. Biancofiore mette in dubbio la regolarità delle attività svolte il suo malcontento poi tra l'altro è condiviso da oltre il 50% degli iscritti Gelsomino non avrebbe diritto a ricoprire la carica di presidente. Samattina dal vertice dell'associazione precisano che tutto si è svolto nel rispetto delle norme che prevedono valide le delibere dell'assemblea in seconda convocazione da Confcommercio precisano che il 50% più uno non è riferito alla pluralità dei soci bensì al numero dei presenti in assemblea che poi delibera con il 50% più uno dei rappresentanti della sezione. Sarà così ma il malcontento è comunque quasi generale. La vicenda finirà al vaglio della magistratura anche se per Confcommercio si tratterebbe di una corretta interpretazione della norma statutaria. Aggiornamento sul coronavirus il bollettino Covid di oggi abbiamo meno casi positivi al Covid rispetto a ieri dunque scendono un po' i numeri registrati su 15.572 test 173 nuovi casi in tutta la Puglia in provincia di Foggia da 53 di ieri scendiamo a 20. Gli attualmente positivi cioè le persone che accusano sintomi di Covid-19 al momento in tutta la regione Puglia sono 4.572 salgono purtroppo i ricoveri negli ospedali 232 al momento di cui 25 in terapia intensiva e lo ripetiamo l'82% dei ricoverati è non vaccinato rispetto a ieri ci sono 24 persone in più ricoverate per Covid-19 ultimi giorni di agosto c'è vita nei piccoli comuni ci sono anche eventi culturali adesso c'è anche a fine agosto la festa patronale in uno dei piccoli borghi dei Monti Dauni domani c'è un interessante pomeriggio culturale nella sede della Proloco di Monte Monte Corvino Germano Massenzio è un illustratore un fumettista è stato è andato anche in finale al premio Attilio Michiluzzi del 2014 nella categoria migliore storie breve parlerà del suo ultimo lavoro la sedia del diavolo un affondo nelle sue origini e ricordi dell'antica Monte Corvino il nome di Germano Massenzio figura anche nella rassegna Buon Compleanno Paz in onore del grande fumettista Sanseverese Andrea Pazienza sentiamo Fissò quei luoghi nella sua memoria quando era ragazzino quando d'estate tornava al paese con i suoi percorsi di campagna all'ombra dell'antica torre di Monte Corvino quei luoghi Germano Massenzio non li ha dimenticati ed oggi che la sua penna descrive e disegna straordinari scenari catturando la critica nazionale li ha rappresentati nel suo ultimo lavoro la sedia del diavolo già pubblicata dalla Douglas Edizione presenterà la sua opera ricca delle sue origini nella sede della Proloco di Motta domani alle 19 un pomeriggio di cultura un affondo nella storia di un paese nato dalla rovina di Monte Corvino l'autore del libro dialoga con la natura per denunciare invasioni che mettono a rischio il territorio a fare gli onori di casa Alberta Massenzio e Roberto Calabrese anche loro ricorderanno tutta l'infanzia nel libro fumetto di Germano Massenzio oggi abbiamo due pagine sportive di calcio perché sta per cominciare il campionato di Lega Pro dunque di Serie C e il Foggia è atteso sabato sera alle ore 21 allo stadio di Viterbo che è la sede del Monterosi una squadra che debutta nel campionato di Serie C dunque due pagine sportive la prima riguarda il calciomercato perché è Rosso Nero un altro portiere si tratta di Volpe la seconda è dedicata a Zeman ma cominciamo con l'ultimo acquisto in casa Rosso Nero e con Tiziano Enrichiello come già annunciato dal presidente Nicola Canonico e dal tecnico Zdenek Zeman al termine della gara di Coppa con la Paganese il Foggia ha un nuovo portiere si tratta di Giacomo Volpe classe 96 la passata stagione in forza alla Cremonese dove nel campionato di Serie B ha collezionato nove presenze e che ha già una discreta esperienza di Serie C avendo giocato con il Gubbio per due campionati totalizzando 57 presenze prima di essere notato dal club Grigio Rosso dove ha militato nelle ultime tre annate calcistiche un elemento di sicuro valore prelevato a titolo definitivo e che si lega al Foggia fino al giugno del 2022 che va a completare un reparto che già dispone di Alastra e Dalmasso in Rosso Nero sin dal primo giorno di ritiro nella giornata di ieri poi il club Rosso Nero ha provveduto anche a rescindere consensualmente il contratto economico con i calciatori Cristian Anelli e Manlio Di Masi che non rientravano più nei piani del club stessa sorte potrebbe toccare nelle prossime ore anche a Giuseppe Agostinone e Nicolaturi per i quali si sta cercando un'altra sistemazione mercato chiuso manca una settimana al si chiude della sessione estiva e mai dire mai intanto in Casa Foggia si lavora per preparare l'esordio in campionato che avverrà sabato prossimo in notturna all'Enrico Rocchi di Viterbo contro il Monterosi dal tecnico D'Antoni che nel turno di Coppa Italia è uscito sconfitto dal terreno di gioco di Teramo con il punteggio di due reti a zero per i rossoneri un test importante per saggiare la condizione fisica dei singoli e per migliorare l'intesa tra i reparti un gruppo che ha nelle gambe tutti i carichi di lavoro dal primo giorno di ritiro in Valle d'Aosta sino ad oggi ma il boemo si sa vuole che i suoi migliorino partita dopo partita e che possano arrivare a dare intensità alla manovra di gioco per gli interi 90 minuti e non solo a sprazzi come è accaduto in Coppa da valutare le condizioni fisiche di Alexis Ferrante tenuto precauzionalmente a riposo nel match di Coppa e che potrebbe tornare a disposizione proprio per la prima di sabato sera in terra laziale dovrebbero essere tutti a disposizione del tecnico Zeman che potrà continuare a lavorare al processo di crescita dell'intero gruppo che ha mostrato nella gara di Coppa di avere tutte le carte in regola per fare bene in questa stagione la rosa ormai con l'arrivo del portiere Volpe della quarta Zemallandia è praticamente definita ed è anche di buon profilo tra l'altro conforta la prestazione offerta in Coppa Italia sabato sera allo stadio Zaccheria con la vittoria per due reti a zero la squadra a tratti ha mostrato davvero il calcio che preferisce il tecnico Zeman sarà una stagione che permette abbastanza bene ma sarà caratterizzata dal ritorno di Zeman qui a Foggia in panchina è un valore valore aggiunto c'è un rapporto straordinario con la città con la tifoseria che è tornata sugli spalti ed è tornata a cantare Zeman qui a Foggia dimostrerà che praticamente è un uomo di calcio instancabile maestro di calcio gli brillano gli occhi come un ragazzino ma di anni ne ha 73 è straordinario l'entusiasmo di Zeman tornato a Foggia per insegnare calcio la stessa voglia determinazione come quando cominciò tanti anni fa con una lavagnetta in Trentino gli stessi concetti che rivoluzionarono il calcio prima discursi poi condivisi da Enrico Sacchi tra i tanti lo chiamarono il profeta dell'est a Foggia è tornato per un atto d'amore ma soprattutto per dimostrare l'efficacia della teoria sul comune denominatore del divertimento ecco perché si arrabbia quando non vede gente sugli spalti a che serve giocare con gli stadi vuoti ripeteva spesso nel lungo periodo del lockdown sabato sera lo Zaccheria ne ha visti più di duemila un mezzo sorriso glielo hanno strappato come i suoi allievi sul campo a tratti l'applicazione dei concetti è stata perfetta la velocità prima di tutto poi il 433 la diagonale le sovrapposizioni poi la qualità che meglio esalta la sua dottrina la sua mano si vede lontano mille miglia anche chi non sa se il pallone è rotondo o quadrato sa che in panchina c'è Zeeman l'uomo che nel calcio non ha mai bleffato mai sceso a patti fedele al principio della pratica sportiva soprattutto contro il potere a Foggia cerca l'ennesima rivincita con la voglia infinita adesso dalla panchina borbotta più di prima e si alza quando non vede l'applicazione del suo schema in Coppa è partito bene sugli spalti già cantano mi diverto solo se a giocare c'è il Foggia il Foggia di Zeeman l'instancabile maestro di calcio parte dunque il campionato di Lega Pro con Zedra e Zeeman in panchina parte anche la nostra stagione televisiva e dunque il palinzesto costruito quest'anno per soddisfare le attese del popolo rossonero il primo a debuttare sabato alle 20.15 rigorosamente in diretta sarà Tiziano Enrichiello perché insieme ai suoi ospiti ci racconterà dunque la partita del Foggia da da Viterbo e dunque sentiamo un po' che cosa ci ha preparato Tiziano per sabato sera Kick-Off gioca il Foggia una produzione Foggia TV per seguire da vicino le partite del Foggia in campionato ospiti servizi interviste e il commento alla gara del Foggia prima durante e dopo il novantesimo minuto conduce Tiziano Enrichiello La partita del Foggia prima durante e dopo sabato in diretta a partire dalle ore 20 e 15 dunque il debutto sabato di Tiziano e poi la conferma del ormai storico prodotto televisivo Zafò in onda il lunedì dunque sabato cominciamo alle 20 e 15 ripeto in diretta è prevista anche la partecipazione di chi ci ascolterà da casa e dunque con Tiziano Enrichiello abbiamo una bella squadra composta quest'anno da Bruno Arcano da Lillo Metta Giampaolo Limardi e Gabriele Muccelli in occasione della prima puntata in studio ci sarà anche l'allenatore Sergio Di Corcia dunque cominceremo sabato alle 20 e 15 io ho finito ma propongo a chi si è sintonizzato con qualche minuto di ritardo i titoli di apertura del nostro telegiornale gara di solidarietà per la giovane Michela lotta nell'ospedale casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo dopo l'incidente stradale straordinaria donazione di sangue strade insicure incapacità nella spesa pubblica lavori finanziati ma non eseguiti dopo gli ultimi incidenti ennesima denuncia di equità territoriale Gelsomino Confcommercio illegittimo l'ex presidente Matteo Biancofiore contesta la nomina non sarebbero state rispettate le norme statutarie Volpe ultima mandata alla porta del Foggia alla corte di Zeman un altro portiere 25 anni l'anno scorso con la maglia della Cremonese Zeman l'instancabile maestro di calcio entusiasmante il suo ritorno a Foggia pronto per l'ennesima rivincita nella speranza di aver soddisfatto le vostre attese vi ringrazio per averci ascoltato per noi di Di Vella le cose più buone sono quelle più semplici per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità sempre con grande rispetto per l'ambiente Di Vella passione mediterranea nel mondo di Vella di Vella di Vella di Vella di Vella Grazie a tutti